C'è un quartiere in allarme, quello di Torre e Mortise. Da qualche giorno si rincorrono le voci di un auto station wagon blu con un finestrino posteriore rotto che si aggira vicino alle scuole. A bordo un uomo di mezza età che tenta di addescare i ragazzini. La prima segnalazione è arrivata al comune attraverso il filo diretto con il numero whatsapp. Qui si era costruito un percorso tra le mamme, tra i genitori del territorio, quindi era arrivato anche al nostro whatsapp della polizia locale, oltre a quello delle segnalazioni varie per il settore manutenzioni. È importante perché da là nascono molti interventi e molte operazioni, tant'è che noi adesso stiamo potenziando sul territorio anche gli sportelli per le segnalazioni, gli esposti, ce ne sarà uno per ogni vecchia sede di quartiere. Gli episodi però sarebbero almeno quattro, anche la polizia ha iniziato ad indagare. Il presunto maniaco si aggirerebbe tra scuole e giardini pubblici e sarebbe stato visto anche in via Baiardi. La prima segnalazione è quella di una mamma, suo figlio di dieci anni ha rifiutato di salire sull'auto ed è scappato. Il tantame in rete sta raccogliendo tutti gli avvistamenti, intanto le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nella zona di Mortise e Torre. C'è questa targa segnalata e quindi è l'attenzione di tutte le forze di polizia sul territorio. Grazie. 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 Grazie.